Dal 29 settembre scorso non si hanno più notizie del presidente dell'Interpol Mengongwei mentre si trovava in viaggio in Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il 64enne sarebbe stato fermato e messo sotto indagine dalle autorità del suo paese, di cui è stato anche viceministro. È stata la moglie a segnalarne la scomparsa alle autorità francesi. L'inchiesta è stata aperta a Lione, quartier generale dell'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione di Polizia. Grazie.